Non è stato facile convincere i miei allievi a stare a casa e lasciare i loro cavalli, perché è una cosa che io insegno, il tuo cavallo funziona se tu gli vuoi bene, se tu stai con lui, se con lui passi del tempo. Per cui ho dovuto anche contraddirmi, dirgli stai a casa era contraddire quello che io insegno. Ho dovuto forzarmi, ben conscio che stavo dicendo una cosa che non era. Però andava fatto, in quel momento andava fatto. E loro hanno capito. Poi ho dovuto fare io quello che fanno loro normalmente, stare con i cavalli, volerli bene, giocare. Divertirmi con loro, perché il rapporto che c'è fra cavallo e cavaliere è quello che fa la differenza.